3, 2, 1, sono tuffo! Complice la temperatura primaverile, quasi 18 gradi all'idogandoli vicino a Taranto per il ritorno del tradizionale tuffo e bagno di fine anno. Sulla spiaggia in centinaia si sono dati appuntamento all'iniziativa organizzata dall'associazione Taranto Redenta con la collaborazione del professor Valerio Buzacchino. Tante persone di tutte le età hanno voluto festeggiare così il capodanno tarantino. Con piacere abbiamo aderito a questa iniziativa del professor Valerio Buzacchino con l'ospicio che possa attirare l'attenzione nei confronti di questo bellissimo paesaggio e soprattutto all'attenzione per il rispetto della salute e dell'ambiente che ci circonda. 18 gradi e poco vento quindi si sta benissimo, è una giornata favolosa, preludio di un anno splendido per tutti. Lo facciamo anche per sviluppare un po' gli anticorpi in questo periodo di covid, di influenza, quindi manteniamo gli anticorpi allenati. Siamo nati per soffrire, ma tra un dolore di capo e un po' di panza non fermiamo ciamannanze. O facciamo questa umana che ha sussurro così bella, o facciamo questa terra che ne cresce assai bella. E pertanto a questo punto non resta che brindare tutti insieme tanti auguri da Londra Nuestra!